Una deliziosa zuppa di cocco piccante con gamberetti, zenzero e lime, una cottura lenta e un mix di sapori esotici, ricetta vegana e senza glutine. Sbucciare e tagliare a dadini una cipolla, dello zenzero e uno spicchio d'aglio. Tritare del peperoncino rosso, sgusciare e sgamare dei gamberi freschi, preparare il brodo vegetale, prendere alcuni rametti di erba cipollina e tagliarli finemente, tagliare a fettine soffili uno o due lime. Scaldare olio di cocco in una pentola, aggiungere cipolla, zenzero e aglio e far rosolare fino a doratura, aggiungere il peperoncino rosso tritato, mescolare continuamente per amalgamare i sapori. Versare il latte di cocco nella pentola, portare ad ebollizione e ridurre il fuoco, cuocere a fuoco lento per 10 minuti, mescolando occasionalmente. Aggiungere i gamberi sgusciati alla zuppa, cuocere per 5 minuti o fino a quando i gamberi diventano rosa, aggiungere l'erba cipollina tagliata finemente e mescolare bene. Versare la zuppa di cocco piccante in ciotole individuali, guarnire confettine di lime e foglie di coriandolo fresco, servire calda e gustare.